Allora faccio questo video per darvi alcuni aggiornamenti. Ha grandinato qualche giorno fa a Cuneo. Si prevede se come ogni anno grandina che tra qualche giorno grandinerà probabilmente anche a Torino. Se volete fare dei corsi affrettatevi perché in questo periodo riusciamo ancora a farli. E' possibile che tra una ventina di giorni ci saranno macchine grandinate da riparare in continuo e non riusciremo più a fare i corsi. Molti scrivono che i prezzi dei corsi sono alti. Tenete conto che un levabolli in stagione 600-900 euro al giorno li guadagna. Per un levabolli guadagnare riparando macchine grandinate o guadagnare la stessa cifra facendo corsi è indifferente. E' logico che se si prendono accordi per riparare parchi auto nessun levabolli lascia il lavoro di riparazione di corsi quantitativi di lavoro. Quindi tante macchine da riparare per dedicarsi due giorni a un corso. Eccezione fatta per sabato e domenica. Quindi se vi interessa seguire i corsi contattateci. Sabato e domenica corsi individuali di due giorni ancora disponibili. Se siete invece privati assicurati contro la grandine quindi contro gli eventi atmosferici. Quando grandinerà se avrete danni alla vettura contattateci. Contattateci e ricordiamo che non facciamo pagare franchigia. Avete diritto all'auto sostitutiva per il periodo di riparazione. Quindi uno o massimo due giorni. E avete diritto a un buono carburante di almeno 100 euro. Se siete compagnie assicurative contattateci. Almeno 200 vetture da riparare. Troviamo sicuramente un accordo. Ci vediamo nei prossimi video.